Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione della Rassegna Stampa, sono le 7.30 e siamo in diretta. Allora cominciamo dal Santo del Giorno, oggi a dire il vero la Chiesa Cattolica ricorda i Santi Arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, grandi protettori di tutti noi, 7.03 e 18.53, allora andiamo a vedere, 7.03 chiaramente l'alba e l'alto del tramonto. Dunque andiamo a vedere il tempo, il tempo per la giornata di oggi, oggi avremo cielo assolutamente sereno, vedete in tutta la regione Marche, splende il sole, le temperature ovviamente a quest'ora del mattino sono ancora rigide, siamo intorno ai 12-13 gradi, anche se sono ancora in lieve diminuzione. Le massime invece aumenteranno, quindi andiamo verso mezzogiorno, lune, insomma le due del pomeriggio che ancora insomma sembra quasi di essere in estate. Il 30 di settembre domani ancora cielo sereno poco nuvoloso, temperature insomma minimi in aumento, il tempo ancora buono, per sabato primo ottobre invece vedete come c'è una perturbazione che porterà della pioggia soprattutto sui rilievi, a ridosso dei rilievi ci saranno deboli piovaschi nel pomeriggio nelle zone interne, le temperature sono in lieve aumento, in particolare quelle minime. Per quanto riguarda i prossimi giorni ci sarà un aumento della nuvolosità con deboli condizioni di instabilità per domenica e l'inizio della prossima settimana. Il resto del Carlino è in corso uno sciopero per cui troverete credo solo l'edizione nazionale, non c'è l'inserto locale, almeno così ci ha riferito la nostra edicolante di fiducia. E adesso andiamo a vedere invece il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesero. L'apertura, la prima pagina è sull'ospedale, ospedale a Muraglia salvando il Santa Croce, la soluzione del modello policentrico, una lettra inviata a tutti i 59 sindaci. È l'uovo di Colombo e offre una via d'uscita all'impasse sull'ospedale unico di Marche Nord. È stata Forza Italia a proporre una soluzione che si sposa bene con il modello policentrico sostenuto da movimenti come Gruppo Zero, che ieri ha inviato un appello ai 59 sindaci, il nuovo ospedale a Muraglia mantenendo il Santa Croce. La fotografia che pubblica il Corriere sulla prima pagina è per gli sciacalli purtroppo che rubano i computer degli studenti terremotati. Un blitz dei ladri senza cuore nella scuola di Acquasanta. E sotto invece, sempre da Pesaro, ora mettiamoci l'elmetto, Bucchi svela la sua VL, quindi parliamo di Sport, il coach, i ospite in redazione alla vigilia dell'esordio. E quindi il basket in primo piano, poi il richiamo in apertura sotto la testata, vis, battute e rigori dalla Esina nel derby e fuori dalla Coppa. Entriamo nelle pagine interni, vediamo questa notizia dell'ospedale unico, ospedale sdoppiato, lettera ai sindaci, Gruppo Zero chiede agli amministratori pubblici di valutare diverse opzioni, confrontare costi e benefici, il modello policentrico contiene i costi e il consumo del suolo, l'ipotesi di due presidi, cioè quello di Muraglia mantenendo, come dicevamo, il Santa Croce. Tra i vantaggi, la sostenibilità dell'opera con interventi graduali e l'uso di risorse pubbliche. L'intervento di Massimo Seri, sindaco di Fano, clinica privata, la regione metterà un bando, Seri in consiglio giudica sbagliato il sito di Muraglia e polemizza con l'ex sindaco e il suo predecessore Stefano Aguzzi. La pagina di Fano del Corriere, eccola qua. Svaliggiano i distributori automatici, fatale il colpo all'ospedale Santa Croce. Tre malviventi incastrati da testimonianze di prese video, arrestati con un blitz della Polizia di Stato. La banda aveva colpito a Fano il primo agosto, poi si era spostata a Treviso. Due sono stati presi a Rimini. Sotto del vecchio eletto alla Commissione di Garanzia per la vicenda della Rincicotti, con i conflitti di interesse, persa la solidarietà con il Movimento 5 Stelle. Caos, scuolabus, il comune chiede scusa. L'assessore ricostruisce in consiglio comunale le cause attribuibili all'azienda Tundo. Saranno chiesti i danni, trasporto regolare solo sette giorni dopo. La revoca dell'appalto avrebbe comunque creato ancora più disagi. La critica del vecchio, che dice che un fatto così grave non era mai accaduto ai servizi educativi. Lo dice lui che comunque è stato anche ex assessore con quella delega. Pista di cemento all'aeroporto senza consenso no di Enac. Il sindaco risponde a Sinistra Unita e riferisce prospettive ed incertezze. In pescheria calano i prezzi. Dopo 42 giorni di fermo pesca, il mercato ittico è stato riempito da 800 casse di pesce. Le offerte di triglie da 1 a 3 euro al chilo. Ancora assenti invece i merluzzi e gli scampi. Serie ha augurato buon lavoro ai pescatori osservando un'uscita dal porto senza alcun problema. Rischio sismico, fondo rifinanziato all'unanimità. Il Consiglio Comunale ringrazia i volontari in aiuto dei terremotati. Il ritorno di Carnaroli-Cincinnato. Un riscatto dopo anni da esiliato. La nomina al vertice del Corecom grazie alla PAX nel PD fanese. Minardi è stato lo sponsor, cioè colui che ha proposto la candidatura di Cesare Carnaroli alla Corecom, che significa Comitato Regionale per le Comunicazioni. Il gioco di squadra porta risultati, ha detto lui, sono soddisfatto per Fano. Il mio ruolo sarà a titolo gratuito. Riace, la città risorta grazie all'accoglienza e il riconoscimento dell'Africa chiama al sindaco Lucano. Tifosi dell'Alma con il cuore grande, solidarietà oltre l'emergenza. Dopo le raccolte per i terremotati arriva la matriciana Granata di beneficenza. I tifosi del Fano non si sono dimenticati delle popolazioni colpite dal sisma del 24 di agosto scorso. Dunque l'appuntamento è per domani alle 20 con l'intero ricavato che sarà devoluto in beneficenza per la popolazione di Arquata del Tronto e per il progetto di realizzare un parco giochi di amatrice promosso dai supporters aquilani. E questa è la notizia che troverete sempre sul quotidiano, il Corriere Adriatico di questa mattina. Andiamo sulla pagina della Valle del Cesano. Auto contro bici grave, un giovane cuoco. La cronaca si schianta all'incrocio. Tommaso Gasperini di 33 anni di Marotta è stato soccorso dall'eliambulanza. Il ciclista ha perso conoscenza dopo l'urto con la Fiesta guidata da un pensionato di 65 anni di Mondolfo. Questa è la fotografia che ritrae il luogo dell'incidente che è avvenuto intorno alle 15 e 30 che tra l'altro ha mandato in tilta anche il traffico in quel luogo, in quel posto per circa un'ora. Mostra lunga, siamo a Pergola, mostra lunga due chilometri. Pergola si esalta con il tartufo. Parte domenica l'attesa manifestazione, questo è il periodo del tartufo, è una delle prime iniziative che si svolgono subito dopo la scorpacciata delle feste estive. Si parte con il tartufo, la novità è il focus sulla pizza gourmet. Il sindaco Baldelli è ottimista e dice che tutto ci fa pensare che sarà comunque quella di Pergola. Un'edizione da record e lo vedete qui mentre mostra un bel cesto di tartufi. Andiamo adesso sulla pagina di Senigallia. Strade pericolose, subito i rimedi, asfalto dissestato e segnaletica insufficiente. Sono nel mirino dei residenti, da Marzocca alla Vivere Verde. In Consiglio Comunale critiche sui rischi per auto e pedoni sono arrivate all'interno della maggioranza. E poi l'altra pagina di Senigallia, invece, la vediamo subito, sul Corriere condannate l'appuntato. Chiesti un anno e otto mesi per il carabiniere che ha sparato ad un bandito in fuga. L'albanese di 23 anni era stato centrato alla testa a ostravetere dopo un furto. Per la procura è omicidio colposo. La difesa, invece, insiste sul legittimo uso dell'arma. E su questo, chiaramente, poi ci si divide sempre tra chi vorrebbe, insomma, un po' una giustizia fatta da sé. E tra quelli che, e quindi danno ragione, a chi si difende in tutti i modi da questi ladri che entrano a qualsiasi ora del giorno della notte. E tra chi, invece, sostiene ancora che, insomma, c'è l'eccesso di legittima difesa. E qui siamo un po' così. Gli onori, invece, e passiamo adesso alla pagina di Pesore Provincia, da Tavuglia. Gli onori militari per Sebastiano Di Noia, che è il militare che è morto in un incidente stradale qualche giorno fa, di ritorno da una cena a Riccione, questo carabiniere fuori servizio stava rientrando a casa. Dopo questa serata con gli amici, un colpo di sonno è finito contro un cancello di un'automobile. L'auto ha preso fuoco, purtroppo per questo 44enne non c'è stato nulla da fare. Viveva per l'arma dei carabinieri e per la famiglia. La chiesa è gremita a Tavuglia per i funerali del carabiniere, morto in uno schianto. Commozione e dolore tra i colleghi del brigadiere. Vedete queste le immagini di alcuni momenti del rito funebre. Poi, sempre per quanto riguarda il tartufo, sua maestà, il bianco pregiato. Da Pergola andiamo a Sant'Angelo Invado, dove il mese di ottobre è il mese del tartufo. Sant'Angelo Invado si prepara ad ospitare, nei fine settimana, dall'8 al 30 ottobre, la 53esima edizione della mostra nazionale del tartufo bianco pregiato, delle Marche, che è un evento organizzato dal comune di Sant'Angelo Invado. E sotto, nell'altra pagina, cioè del Corriere Adriatico, quella di Urbino, il delitto Lulli depone la mamma di Ismaele con l'audizione dei testimoni, riprende a Pesaro la corte d'assise per l'omicidio del 17enne. Mi crea molta ansia, ma devo andare avanti per mio figlio, dice Deborah, la mamma appunto di Ismaele, per combattere e fargli avere giustizia. Chiudiamo qui la nostra segna stampa. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che stasera l'appuntamento con occhio alla notizia e poi torna, lo ripeto ancora, anche questa sera torna Missione Salute. Missione Salute è il programma che ospita nei nostri studi i primari dell'azienda ospedale Marche Nord. Questa sera si parlerà di ortopedia, quindi se avete domande da rivolgere al primario e agli altri ospiti che saranno qui nei nostri studi, potete chiamare la nostra redazione allo 0721 86 14 33. Dunque una seratona su Fano TV, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie. Grazie.